Ma quanto è bello allenarsi, ma soprattutto quanto è facile allenarsi quando sei nel mood giusto. Non mi sento nemmeno di parlare di motivazione, perché la motivazione, l'ho già detto in diversi miei video, è un qualcosa di effimero. Oggi c'è, domani no, vado a letto col culo girato, mi sveglio male, finisce la motivazione. Non si tratta di motivazione, si tratta di essere focalizzati su un determinato stile di vita, che io chiamo mood, ma io insomma lo chiamano un po' tutti mood. Ovvero sono quella serie di atteggiamenti, di abitudini, di pensieri, lo stile di vita che ti porta ad allenarti. Ecco, io ci ho messo tanto per capirlo e quando entri nel mood giusto l'allenamento fa parte della tua quotidianità. Cioè non ti devi nemmeno sforzare di allenarti. Sai che è una cosa che devi fare in modo naturale, come mangiare, dormire, guardare Netflix. Insomma, quando sei nel giusto mood non diventa più un peso allenarsi. E io non ci sono arrivato subito, ci ho messo tanto tempo per capirlo. Io mi ricordo quando mi allenavo, anche quando facevo le gare di triathlon, spesso e volentieri dicevo oggi devo andare a correre in bicicletta, devo andare a nuoto, ma non ho voglia. Però ci vado ugualmente. Ecco, oggi non c'è più il ci vado ugualmente anche se non ho voglia. Perché? Perché non sono più nello stato psicologico di dire che non ho voglia. Ci vuole un po' per entrare nel mood. È un processo che arriva se siete pronti ad accoglierlo. Però non è che ci si alza una mattina e improvvisamente siete nel mood giusto per allenarvi. per raggiungere determinati obiettivi, per fare determinate corse, competizioni. Voi considerate che per arrivare qui dove sono oggi, che poi in realtà non è che sono arrivato chissà dove, però semplicemente mi alleno in modo naturale. Tutti i giorni della settimana, escluso il sabato e la domenica perché lo passo in famiglia, però a meno che non ci siano cataclismi nella mia vita di tutti i giorni, io una volta al giorno mi alleno. Vi faccio l'esempio di questa settimana. Lunedì esco da lavoro e sono andato a correre. Martedì, mercoledì e ieri ho fatto rulli. Ecco, poi parliamo anche di creare l'opportunità per allenarsi. E oggi, questa mattina, sono le 10. È ancora un po' freschetto, quindi ho detto, mentre si scalda facciamo questo video. Oggi vado a correre. Come vi dicevo, è un percorso che io ho iniziato molti anni fa. Diciamo almeno tre anni fa, ora molti in un parolone, tre anni fa quando ho smesso di bere caffè. Ora, può sembrare una sciocchezza, diciamo, che cazzo c'entra Davide il non bere caffè con l'entrare nel mood? Perché questa piccola scelta, che poi nei primi tre mesi, vi assicuro, è stata una scelta molto dolorosa, perché psicologicamente io andavo in crisi d'astinenza di caffè e mentre tutto il mondo intorno a me beveva caffè, io avevo deciso di non berlo. E quindi è stato difficile per i primi mesi accettare questo nuovo stato, però impormi di non bere caffè perché ho avuto dei piccoli problemini al cuore, niente di che, adesso non ci sono più. Però bevevo molto caffè, bevevo molta Red Bull, molte bevande ricche di caffeina. Quindi a un certo punto ho deciso basta e questa decisione mi ha portato, in modo inconsapevole, dove sono oggi. Cioè ho iniziato a volermi più bene, perché in Occidente molte persone, tra cui anche il sottoscritto, fanno sport prevalentemente per stare bene, fanno sport per vivere una vita sana, per potersi togliere anche qualche piccola soddisfazione a livello agonistico, poche, ormai non è che possiamo vincere il Tour de France o la Maratona di Atene, però ci possiamo divertire stando bene. Ecco, questo è un po' il mio di mood. Stare bene, ecco perché non bevo più caffè, ecco perché cerco di mangiare più sano possibile, a volte non ci riesco, però se guardo come mi alimento oggi e come mi alimentavo cinque anni fa, devo dire che c'è un grande cambiamento. Insomma, il non bere caffè, cercare di alimentarsi nel modo corretto, fare anche scelte etiche come mangiare vegano, è difficilissimo da fare, ve lo dico. Io mi sforzo e a volte non ce la faccio, però ecco, anche se uno non ci riesce, però si impegna in quei giorni in cui riesce magari a stare a casa, in un ambiente controllato, a mangiare vegano, sono piccoli passettini che ti portano pian pianino ad entrare in questo grande mood. E se tutto questo non bastasse, il volersi bene vuol dire anche allenarsi. Non vuol dire soltanto non assumere più ciò che ti fa male e mangiare bene, ma vuol dire anche allenarsi. Mi alleno tutti i giorni se posso, cioè il mio obiettivo è quello di allenarmi tutti i giorni. Poi capita, la bambina si ammala, un guasto alla macchina, faccio tardi al lavoro, mi sento poco bene, è chiaro che non è che siamo pagati per allenarci. Però tutto questo popò di pippone per dirvi che quando siete in questo stato mentale, dove ovviamente non potete vivere l'allenamento come se fosse una camera stagna, dovete vivere l'allenamento come se fosse una parte integrante della vostra vita, perché altrimenti non riuscirete mai a godervi di allenamento, non riuscirete mai a entrare in questo mood in cui tutto è fatto per stare bene. Vi dico questa cosa qua perché sono sicuro che molti di voi dicono, eh vabbè, te parli perché hai molto tempo a disposizione da dedicare agli allenamenti. Allora, tanto per chiarirci, io mi sono costruito una routine allenante che tiene conto delle mie esigenze, di quelli che sono i miei obiettivi, di quelle che sono le mie potenzialità. Io oggi non potrei correre tre ore consecutivamente perché muoio, non potrei fare dislivelli alpini perché ad oggi, a parte che qui non ci sono le Alpi, come vedete le uniche montagnole sono quelle là, però diciamo che ad oggi non riuscirei a fare 5.000 metri di dislivello in un'unica uscita. Quindi cerco di programmare i miei allenamenti e le mie sedute giornaliere sulla base di quelle che sono le mie necessità, le mie potenzialità e il mio tempo a disposizione. Quando sento dire, va bene, te lo fai perché hai tanto tempo, il tempo, se te vivi nel mood di allenarti, di stare bene, non lo devi nemmeno trovare. Il tempo, se sei nel mood giusto, lo trovi in modo spontaneo. Non c'è bisogno di incastrare cose. Poi è vero che ognuno di noi ha vite complicate, sempre più veloci, sempre più difficili, però quando vi parlo di mood vi parlo anche di questo, cioè il buttarsi appena si ha la possibilità nel fare il proprio sport preferito. Ora, io faccio nuoto, bici e corsa, faccio triathlon, quindi per me è un pochino più... non dico complicato, dico semplice, perché avere tre sport da fare mi permette di giostrarli nella settimana come meglio voglio. Se piove vanno in piscina, se ho poco tempo mi faccio 40 minuti sui rulli. Ed ecco che torno quindi all'attrezzatura. Anche mettersi nelle condizioni di poter avere sempre un'alternativa con l'attrezzatura giusta è quello che vi serve per non saltare mai un allenamento. Parlavo di rulli, parlavo di attrezzatura. L'attrezzatura giusta, in questo caso i rulli, una bella stazione isolata, con un deumidificatore, con un ventilatore, i giusti sali, la giusta integrazione per pedalare, un bel asciugamano. Sono perfetti quando fuori piove, quando hai poco tempo, sei in casa tua, praticamente, monti sul rullo, ti spari 45 minuti, un'oretta, se hai poco tempo, io a volte ci sto anche due ore sui rulli, se sei messo bene sulla bicicletta nessuno ti rompe i coglioni, nel senso che non hai problemi, ecco che risolvi un altro problema. Quindi occorre avere anche l'attrezzatura giusta. Voi non la vedete, ma di fronte a me c'è la mia macchina, nella bauliera io ho tutto il necessario per andare a correre. Scarpe, mantellina, keyway, asciugamano, poggiapiedi, borraccia, integratori, ecco come vedete, e in più, qua davanti, esatto, ho anche lo zaino per andare a fare un po' di nuoto, perché forse dopo vado a nuotare. Quindi, mettetevi nel mood giusto, entrate in questo mood per fare le cose, e gli allenamenti, ma nemmeno gli allenamenti, tutto il vostro stile di vita, dal riposo, all'alimentazione, all'allenamento, alle attività, diciamo così, salutari, verranno in modo spontaneo. Quindi, non serve nemmeno essere motivati, non serve nemmeno organizzare la giornata come se fossimo degli amministratori delegati, ma lo sforzo più grande che dovete fare, ed è un percorso lungo, è quello di entrare nel mood. Voi, una volta che entrate in questo nuovo mondo, vi accorgerete in maniera stupefacente, nel senso che non crederete a ciò che la vostra mente, perché poi è solo un fatto psicologico, è in grado di farvi fare. Quindi, se volete un consiglio, il consiglio è questo, iniziate a preparare il vostro mood. Sia che abbiate vent'anni, che ne abbiate sessanta, non si è mai troppo vecchi per allenarsi nel modo giusto e per vivere una vita nel mood giusto. Ok, fringuelli, vado a correre, adesso mi sono scaldato, buon allenamento a tutti, noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!